Anas emetterà un'ordinanza da venerdì dove ridurranno il traffico sul ponte Metauro per fare un monitoraggio per ragioni di sicurezza e di staticità. Al momento non ci sono pericoli consistenti, però è giusto che si faccia manutenzione e si metta in sicurezza. Quindi da venerdì ci sarà una riduzione della careggiata a traffico alternato e ci sarà il divieto del transito dei mezzi pesanti sopra le 19 tonnellate. Non riguarda gli autobus che potranno circolare, è chiaro che questo porterà dei disagi. Fortunatamente nonostante l'interruzione che c'è stata per la pandemia i lavori della nuova bretella stanno andando avanti e quindi entro giugno sarà aperta il nuovo ponte sul Metauro e la nuova bretella e questa consentirà di alleggerire il traffico. Però per un paio di settimane avremo questo disagio che per una ragione di sicurezza è una cosa che ci è stata comunicata questa mattina e quindi avvertiamo alla cittadinanza che ci saranno queste difficoltà. Vogliamo anche tranquillizzare da una parte che c'è un'attenzione e una prevenzione, cosa che magari non è avvenuta in altre realtà. Dall'altra che stiamo ultimando la bretella e quindi ci sarà una nuova strada che andrà a diluire il traffico e questo agevolerà molto.